Noi sono ancora un po' per il Viglione, che c'è quella barca che va con l'elettrice, ma perché quella sia più l'elettrice, non c'è quella barca, e adesso il mondo è un po' con i Orsini, che c'è quella barca, e non c'è quella barca? Ciao Orsini! Ciao John, mi fa il progetto? Non c'è quella barca che c'è quella barca? Le barca sono incippate, perché la messa d'arte è in quella barca, ma c'è quella messa d'arte è che da montare il pizzo, che noi abbiamo creato, e il cotismo è un po' con il tuo video, perché quando si chiama il vestimento, si chiama il vestimento, si chiama il cibo e si chiama il cibo, e poi funziona il cosciutto. Ok, lei ne ha già da mezzo a te, quali è la barca che deve essere? Noi, se non si può andare a mezzo a te, poi non si deve andare a fare il cosciutto. Cosa? Cos'è un esempio di plastica? Un esempio di plastica è importante che la via che sprizzo il bambino di poteca in un po' di poteca, perché perchè si stia molto meglio la via che si sprizzano in un po' di poteca in un po' di poteca in un po' di poteca, se si stia a fare blocchi e si stia a fare un po' di poteca in un po' di poteca in un po' di poteca in un po' di poteca. E lo so che c'è bene? Lo so che c'è bene. Ma dov'è si prende una gaiudente in un po' di Poteca? Si, lo so. L'abbiamo in più da Poteca, in un po' di poteca, Grazie a tutti i nostri spettatori, i nostri spettatori sono dei blocchi bianchi, i nostri spettatori sono dei blocchi bianchi, e con i nostri spettatori sono dei blocchi energetici. Quali spettatori? Tutti spettatori sono in più o meno di 350 kg. Quali spettatori per? Quali spettatori per una buona domanda, che dipendono solo da spettatori in Sve, in Sve con 50 km all'ora, spettatori per mesura, e che dipendono in Sve. Quali spettatori sono collegate? Quali spettatori sono collegate con l'altra? Quali spettatori sono collegate con l'altra? Tutti sempli sono buoni, ma anche da dove si avvicinano, si c'è un po' di spettatori, e che c'è un po' di spettatori, e che vengono subito l'uomo, e che vengono con l'ipad. Con l'ipad c'è un po' di informazione delle spettatori, sono collegate con gli attivi uguali, che sono collegate con l'opera nel livello... e come le spettatori è un po' di informazioni... ma sono un cibo, le spettatori sono collegate, perché si vengono bene, non sono ancora qualcosa di funzionario... In questo modo aiutare, senza quali costruzioni che fanno già arrivato. 350 kg costruzano quelle batterie, 350 kg di benzina e litri di benzina. Quando si vede più lonti? Con 350 litri di benzina si vede più lonti, con una discussione. Il problema è che non si vede più di metterlo. In questo modo, il risultato è che il 90% di questa energia si vede per un piccolo bambino. Se non si vede più di metterlo, il motor di benzina è un problema con un piccolo bambino. Se non si vede più di metterlo, il resto si vede più di metterlo. Questo è il motor che viene caldo. Esatto. Quindi nel questo momento si vede più sicuro di metterlo. Quando si vede più di metterlo? Qui è un grado. Se non si vede più di metterli, a dire più di metterlo con una macchina di caffè, ad ogni volta po' 30 ore killer di un caffè, a cui si vede più di metterlo e anche in una televisione. Questo è la grandezza di cosa si vede più di metterlo qui. Grazie.